I tumori al seno ormonosensibili sono una tipologia molto frequente di carcinoma mammario e rappresentano circa i tre quarti di tutti i casi. Le cellule di questo tipo di tumore sono ricche di particolari proteine chiamate recettori, che si legano con un meccanismo chiave serratura agli ormoni femminili e in particolare all'estrogeno. Una volta agganciato alla cellula tumorale, l'estrogeno ne promuove la crescita. I tumori ormonosensibili, detti anche luminali, si suddividono in due categorie. Le cellule dei tumori del sottotipo luminale A si moltiplicano lentamente, possiedono una grande quantità di recettori ormonali e di solito hanno una prognosi molto favorevole. Invece le cellule dei tumori del sottotipo luminale B si moltiplicano velocemente e hanno pochi recettori ormonali. Queste caratteristiche conferiscono alla malattia una maggiore aggressività e una prognosi meno buona rispetto ai tumori luminali di tipo A.